La raffineria mediterranea di Milazzo dovrà comunicare all'autorità marittima qualsiasi lavoro sugli impianti all'interno dello stabilimento. Se si eseguirà a caldo dovrà essere autorizzato dalla stessa autorità marittima. Questo ha stabilito un'ordinanza della Capitaneria di Porto di Milazzo e su questi punti la seconda sessione del Tar di Catania ha rigettato il ricorso della raffineria giudicandolo in fondato. Vediamo nel dettaglio la vicenda. La raffineria rappresentata dall'avvocato Antonino Lamalfa aveva presentato ricorso contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del 21 maggio 2002 disposta dal comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo riguardante il regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori a bordo di navi adibite alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso disponendo che, si legge testualmente, qualsiasi lavoro sugli impianti della raffineria di Milazzo dovrà essere comunicato all'autorità marittima ogni lavoro da eseguirsi a caldo sui medesimi impianti dovrà essere autorizzato dall'autorità marittima La raffineria ha considerato illegittimo un ampliamento a dismisura dell'obbligo di comunicazione e del potere di autorizzazione su ogni lavoro a caldo da eseguirsi nei suoi stabilimenti Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto da ricorso perché inammissibile ed infondato e così ha deciso il Tar in sentenza